ho interrotto su più bello più che altro per ricaricarci più che altro perché ci stavamo buttando in una mischia ce ne sono parecchie siamo sempre qui sul decalisto protocol ora capisco l'entusiasmo però siamo anche abbastanza armati così vediamo un po che ci attacca ma poi vediamo un po perché io questa filosofia non è che l'ho capita tanto in questo modo non mi attaccano evidentemente così silenziosi non ci vedono e non ci sentono manco per striscio mi fa piacere però anche se alcuni ci hanno visto evidentemente questi qua può schiarsi non ci vedono e non ci sentono qua non ci può andare vabbè non credo che porca ecco qua aia come non detto eh guarda che stiamo eh ma ci avevamo detto che non ci vedevano eh però devo stare attento ci deve essere tipo qualche manchia vabbè vabbè eh c'era la cura c'era manchia ok Integna avere Ludo Ma no, 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 è vero Lasciami, lasciami Ok Questo lo stai scassando Eh, ritiro quello che ho detto Io pensavo che non ci guardassero Invece Non ci guarda nemmeno Oppure tanto Ok Tombino ho preso, dai Chego, 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 chego Carica, carica Vai Ne sento altri Ne sento altri Stanno dietro, stanno Ok Ancora Addirittura è sceso Non mi sbaglio Che sta niente, ecco Dove è andato? Ah, sta là Aspetta che faccio qualcosa Che sei in questa posizione, questo? Ma che fa non va Eh, non capisco perché a volte Ma c'era i culpi? Ah, ecco Non ci avevamo i culpi Vabbè Allora Qua c'è qualcosa No, io ho visto qualcosa Lì in fondo Convertire energia Questo è un buco Dove non ci si può entrare Saliamo qua sopra Ah, che onda salta Chego la stanza Quella Madonna, quanto mi schifo sti cosi Io ancora non ho capito come cavolo devo fare Per liberarmi di questi compi Perché poi alla fine mi beccano sempre Non riesco a aspettare Dai Ah, qua non c'è niente No Oh Non mi piace sta zona Ho trovato il generatore Spero funzioni ancora Ah, perché vuoi sapere che non funziona? Siamo venuti fino a qua e manco funziona Madonna che gioia Vai Piano piano eh Ok, che Allora, meno male Che per certi versi l'audio funziona bene Nel senso che perlomeno Quando li sento arrivare Capisco Questo è morto Questo Bello Ma male che ho provato Così almeno ho capito che Eventualmente Parliamo Se ci siamo entrati Il caricatore dell'arma Non sarebbe Ma si sta grattando Ehi Quanto lo stifo E vai Ma quanto lo stifo Quanto Ok Qua che roba c'è Qua non mi piace L'ho voluto rischiare Perché L'ho voluto rischiare perché L'ho voluto rischiare perché L'ho voluto rischiare perché Non so perché Ma Ma per terra Facciamo Non le pigliamo quasi mai Ah ecco Quale la La cosa per farlo esplodere Allora là E che devo far esplodere qualcosa No passiamo di qua Se ci si guarda bene intorno Si beccano un sacco di proiettili Eh Cioè questo è fantastico Al buio mi aggiungi pure La nebbiolina Ok Ok c'è una schiara E subire Qua terra Oh Ho una cassa Nettore di salute La salute ce l'abbiamo ancora buona Dai Si vede una mazza eh Grande munizioni Ah Vediamo se siamo arrivati Almeno a 900 E mi vado a potenziare L'uso non autorizzato Sarà segnalato Sulla vostra scheda personale Stiamo utilizzando bene Quest'arma A questo punto Grazie Dovrei averne tipo 8 Ma ne darai 6 sicuramente Vero 8 Grande Era quello che volevamo Incrociamo i diti Intanto non funzionerà sicuro Ah on Questi interruttori sembrano connessi al generatore Era prevedibile che non sarebbe stata una passeggiata Trova il primo interruttore Ok C'è uno spazio apertissimo qua Basta niente Dici che quello è un'interruttura? Si C'è uno spazio Andiamo 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 In pratica Ogni volta che Mi fai partire Un altro sta là Dai Meno male è facile No che cazzo No 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 Non ci credo Ma non ci credo E praticamente io pensavo di paralizzarlo E Luca ha fatto E' salito sulla schiala Questo dentro L'ho scaraventato qua vicino Ed è morto Va bene Accendiamo quest'altro interruttore Dai Sì Via Bene Ah tu 3 tu Penso me Ti ha aperto la porta Allora Non ci credo Che Un'altra c'è uno qua dietro è morto ok andiamo e perché ancora non ho ben capito l'andamento silenzioso sta qua sta qua sto beccando una marea però comunque il colpo forte a volte riesce a beccare pure due contemporaneamente occhio eh occhio che qua non ho capito perché ma all'improvviso ne arrivano tipo 6 o 7 quella è una bomba eh il lettore sta passando facciamo rumore così oddio mia ma dove è che infatti il giro è in tondo secondo me eh devo salire qua sopra c'è anche la freccia interruttore dove sei quello non ho capito non penso sia questo interruttore no anzi è questo perché l'altro è stata dall'altra parte e c'è un modo rapido per andare ma va sì sì eccomi ti dicevo forte e chiaro e chiamo quando arrivò devo far piano per ora in che senso facciamo madonna ma ma qua ce ne stanno parecchi in silenzio in silenzio qua ce ne stanno un altro bello vini qua vini vini amico ok 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 non c'è di questo cavalcai da qua Andiamo, andiamo, andiamo Vabbè, uno ce l'ho Che sta succedendo? Ok Andiamo di qua Anche ora E dove vai? Ma perché questo non lo ho detto? E alcuni non me li fa becchiare a volte Forse ha la posizione Dove che è la posizione? Insomma, allora, mi ricavateva, insomma, cosa sta facendo a dire? Qua dice di dare di qua, però vorrei che magari ci prende La dove si va? Allora Non so, il caricatore Vabbè, save, va bene Meglio caricare Ok, siamo arrivati, penso Io sto seguendo il figure Non, 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 non Non, 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 non Ok ce ne sta un altro eh porca pavetta porca a volte è più semplice a volte è più complicato eh allora no io penso di qua eh ma no lascia mi stare ma che rischio che rischio vabbè vediamo tutti se possiamo vendere qualcosa lasciavamo pochi soldi poca roba potevamo fare oh siamo arrivati ma le casse che prima non si aprivano aaa madonna prepariamoci al peggio capito già ci sto dando un sacco di roba qua guarda quante munizioni ho già capito ci attaccheranno in 150 qua giocatori in partenza da hub di spedizione ok prossima fermata stazione di arcade ok ok Stai caricando Attenzione alla vita Porca p... Luce, luce Carica, carica, carica Perché? Basta, basta, basta Cari giù, cari giù No, no, no Siamo là Che dici? Dove stanno, dove stanno? Ma che ti hai scansato Quattro, quattro, quattro Se stai caricando Se stai Fatti una cura Fatti una cura Veloce, dai Però non arriveranno più Perché è caricato Attenzione I operatori Indossino sempre I dispositivi Di protezione Perché? Basta E non arrivano più È vero che non arrivate più? Vabbè Non arriveranno più Porca di quella miseria maledetta Vabbè, dai No Oddio mio E chi è questo? Donna fatta Va come Vai, vai Pura Allora Che arma Che posso mettere? Vabbè Prendiamo con questa Però ho mancato Due volte Allora Vabbè 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 No, non mi ha mai preso, no. Reloce, roce, roce. No, mi ti muovi dentro. No, 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 che c***o. Ma perché non mi ha dato l'arma, madonna, quanto lo schifo, quando faccio il video. Stai caricando, imbecilio, stai caricando. Ma quando muore questo? Vai. Ma come fai a dare il colpo a vuoto così? È morto, è morto. Passa, famarone. Comunque... In arrivo a stazione di Arcade. Sì, stazione di Arcade. Comunque, forse, la cosa non capisco perché a volte c'è... Scusate, ma per curiosità, ma quando faccio così... Sì, va buono. Tasto sinistro mi dà l'inventario, vabbè. Ecco, mi cambi l'arma. Invece no, mi dai sempre le... Sempre le due stesse. Io non ho capito lo schiaffato. Vengo soltanto quattro, eh. Fa niente, fa niente, fa niente. Abbiamo abbattuto. E meno male. In arrivo, e quindi... Dove si scende? Allontanarsi dalle pareti del boomer. Ok. Madonna santa. Che c'è qua? Via via via. È stato più complicato del previsto. Che è successo? Colonia? Ah. Dani, ce l'ho fatta. Ottimo. Dove sei? In una specie di tunnel di servizio. Sono dall'altra parte. Prosegui che arriverai alla colonia. Prosegui... Individua la vecchia colonia. Madonna santa. Vabbè ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video. Bye. Ciao.